Per l'emergenza idrica nazionale ci sono in ballo i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stanzia a livello nazionale un miliardo di euro per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua e per la loro digitalizzazione e monitoraggio, interessato anche il Molise. Per via dei fondi ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito della rimodulazione del PNRR sono in arrivo 50 milioni di euro in regione. La Lega ne fa già una vittoria politica. Grazie al lavoro di Salvini al Governo, questo è il commento del segretario della Lega Molise, nonché assessore Michele Marone, con questo intervento sarà possibile ridurre in modo significativo la dispersione di acqua potabile modernizzando al contempo le reti di distribuzione.